La città di Fano è pronta a tre anni di distanza a mascherarsi del suo carnevale nella maniera tradizionale che la distingue in tutta Italia. Saranno le domeniche del 5, 12 e 19 a intrattenere decine di migliaia di persone che saranno attirate dalle innumerevoli attrazioni della festa in maschera più antica della penisola. Non mancherà il famoso getto, lo storico lancio di dolciumi dai carri dando vita ad una tempesta di dolcezza con circa 180 quintali di cioccolatini e caramelle fornite dall'azienda Dulchar. Un fiume di dolci e allegria che riempiranno il corso mascherato a pochi passi dalle mura romane. Siamo molto felici, emozionati di questo. Iniziamo la prima settimana con il botto perché sarà con noi una grande radio RDS con tutti i pazzi per RDS, con Rossella Brescia, Barza e Ciccio e quindi partiamo alla grandissima. Tornano i veglioni, tornano i veglioni per i bambini, le grandi sfilate, il getto dei dolciumi, e poi abbiamo una grande collaborazione quest'anno, visto il tema che è spazio all'arte, con l'Agenzia Spaziale Italiana. Quindi saranno presenti con noi, con due eventi e verrà a trovarci anche Paolo Nespoli che è il grande astronauta. Quindi siamo molto emozionati per questo, abbiamo grandi collaborazioni, San Marino che ha creduto moltissimo nel Carnevale e c'è una grande collaborazione anche con la Repubblica di San Marino, il centenario della musica arabita e quindi tante tante novità. Si può andare sul sito, vedere tutto il programma, tesserarsi, comprare un palco, venire sui carri a gettare i dolciumi, insomma ce n'è per tutti. Quindi buon Carnevale, viva il Carnevale, vi aspettiamo. Sono quasi tre anni che abbiamo celebrato il Carnevale o da remoto o in forma di distanza, invece torniamo con le grandi sfilate, con un programma ricchissimo, pieno di contenuti, pieno di feste, pieno di quei valori che caratterizzano il Carnevale, soprattutto poi la cartapesta, i nostri artisti, artigiani del Carnevale che sono i maestri carristi. Quindi siamo contenti, siamo pronti, la città è pronta e se anche il tempo ci aiuta sicuramente sarà una ripartenza straordinaria. 12 carri sfileranno per le vie della città della fortuna, 6 di prima categoria e 6 di seconda, con innumerevoli mascherate che li precederanno. Il Carnevale di Fano anche quest'anno ha pensato di rivolgere il suo sguardo sia al divertimento ma anche all'arte. Sui quattro carri principali, alti fino a 18 metri, apparirà un omaggio ai Pink Floyd, in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione dell'album The Dark Side of the Moon, alla poesia da Dante ad Alda Merini e all'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Intanto il Carnevale è irriverente, perché è giusto che giochi anche sull'ironia, sulla presa in giro, ma è anche intelligente, è anche un modo per trasmettere dei messaggi. Parliamo della ricerca, della scienza, di astronauti che sono un orgoglio per il nostro paese come Samantha e quindi questi elementi saranno protagonisti del nostro Carnevale.